non schiacciare lo scarafaggino che non c'entra niente ma per favore muoviti va dai ma da morto diamo seve dai che ora e va e va 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 sempre va sempre va sempre ma che bottone ma porca trota e ciao parti o no ciao ma è possibile che si perdono anche qua arriva attacchewa